Non si può dire che non si sia lasciato prendere dall'emozione tanto da definire Milano la città più bella d'Italia e quindi d'Europa. Wilbur Smith è la penna d'oro della letteratura contemporanea dalla pubblicazione del suo primo romanzo nel 1964, al seguito del quale ha venduto oltre 120 milioni di copie dei suoi libri, di cui 22 soltanto in Italia. E proprio dal suo bel rapporto con la penisola ed in particolare con la città di Milano nasce la volontà di mettere un sigillo all'amicizia della metropoli con lo scrittore e così oggi il sindaco Giuliano Pisapia ha consegnato le chiavi della città a Smith per aver scelto l'Italia e in particolare Milano per lanciare i suoi romanzi, si legge nel documento del sindaco, riconoscendone il ruolo di metropoli internazionale del libro e dell'editoria. Sono senza parole per l'onore che questa città ha voluto dimostrarmi e ha ringraziato lo scrittore. Ogni volta che vengo qui mi sento circondato dall'affetto e dalla cultura. Grazie molto, sicuramente oggi è uno dei punti salienti della mia vita, cioè ricevere questa onorificenza da una delle mie città preferite al mondo. Wilbur Smith vive attualmente a Londra, lo scrittore è cresciuto in Sudafrica dopo il successo in atteso. Del primo romanzo ha scelto di dedicarsi alla scrittura a tempo pieno rinunciando al lavoro di contabile che lo aveva impegnato fino a quel momento. 33 romanzi dopo continua a raccontare la sua Africa, ma con un legame particolare con l'Italia, come aveva spiegato nel corso della sua ultima visita. Gli italiani sono semplicemente il popolo migliore del mondo, aveva detto lo scrittore, sono percettivi e perspicaci e sanno riconoscere un buon narratore. È veramente straordinaria l'affinità e la simpatia che mi lega a questo popolo, per questo torno qui ogni volta a presentare i miei romanzi più che volentieri. Ci sono così tante cose da ammirare, da gustare, ha spiegato Wilbur Smith. Ci sono le rovine, le opere d'arte, le armi, le auto, il vino, il cibo e anche le belle ragazze.